Il servizio è attivo da ottobre a Cremona, ma ora entra a pieno regime. È il manutentore di quartiere, figura professionale messa a disposizione dal Comune in sinergia con AEM per effettuare con tempestività interventi manutentivi di facile risoluzione nei quartieri cittadini. Lavorerà con flessibilità oraria anche in funzione della stagione, tornando nelle diverse zone di Cremona con l'obiettivo di completare il giro dei quartieri ogni 15 giorni. L'assessore ai quartieri e piano del Verde, Luca Zanacchi, individuerà i lavori da realizzare anche su segnalazione dei comitati di quartiere e riceverà dal manutentore un report quotidiano con foto del pre e del post intervento. Partendo dal presupposto che tutti i canali, anche per inviare le segnalazioni ufficiali, quindi non i social, ma i canali ufficiali, rimangono, ma anche attraverso il comitato di quartiere possono arrivare delle segnalazioni direttamente all'assessore, che le gira direttamente al manutentore di quartiere, quando si tratta di interventi che spettano appunto il manutentore. AIM si occuperà della gestione, come spiega il direttore generale Marco Pagliarini. AIM mette a disposizione il personale, l'uomo, come si suol dire, e i mezzi, in modo tale da rendere pratica questa volontà. Facciamo riferimento a situazioni piccole, minimali, il cartello storto, il segnale piegato, la fronda che copre un pezzettino di semaforo, ecco, condizioni particolari, sostanzialmente piccole, ma che difficilmente potrebbero rientrare in quelli che sono i normali circuiti di manutenzione e di reclamo. Da ottobre ad oggi sono già diversi i lavori portati a termine, ad esempio la rimozione della paleria ammalorata in Piazza Castello, la potatura del Verde Basso che ostruisce la segnaletica stradale a Borgoloreto, e il recupero di vari cartelli di segnaletica e di palette abbandonati per la città.